Mentre stanno scoccando dalla Basilica di San Michele le 6 di pomeriggio di questa domenica 29 novembre, sono Roberto Figazzolo, questo è C'è Splendore, la community della Fondazione Fraschini e questi che stanno per arrivare anche a voi sono i consigli di visione per questa settimana, la settimana che ci traghetterà forse in zona arancione, vedremo, cambierà qualcosa sull'apertura dei cinema? Non penso, vi sorbite sempre il figazzolo che vi racconta quali film magari, se volete, si possono vedere in queste lunghe, lunghe settimane di lockdown. Vabbè, prima cosa, effettivamente ormai che lo dico a fare, incontro sempre più persone anche in giro, ciao Barbara, mi è trovata con la noccia, sempre più persone che mi dicono che effettivamente, mi viene un dubbio qua, che sia quasi più ascoltato e frequentato in tempi di lockdown che di persona. La cosa mi inquieta un pochettino, nel senso che un conto è guardare questo black mirror e tutto sommato parlare con i propri fantasmi. E un conto è, anche pochi minuti fa, in giro, mentre si stava facendo lo sgambamento settimanale, vedere, sentire, accorgersi che ci sono appunto persone che sentono queste dirette, che chissà se poi prendono anche atto, magari si guardano qualche film, io naturalmente spero di sì. Effettivamente quello che mi colpisce così, magari anche che è successo questa settimana, è che non è una cosa ormai, come dire, soltanto di alcune realtà, si sta veramente ampliando tantissimo l'offerta, non soltanto di cinema, ma proprio di questo tipo di contributi, cioè le dirette, il raccontare a qualcuno perché è importante vedere quel determinato film e perché è proprio in questo periodo. La rivista Film TV ci ha coinvolti come Cinema Politeama, ci ha chiesto di partecipare a questa diretta che si è tenuta qualche giorno fa, mercoledì scorso, che sicuramente potete ancora recuperare. Mi hanno gentilissimi inviato in anteprima un pdf con il numero, il nuovo numero, quello che sarebbe stato in edicola soltanto da lì a qualche giorno, il nuovo numero settimanale della rivista. L'idea era quella di darci un'occhiata e poi discuterne con Matteo Marelli, che è di FinTV uno dei redattori, e con Ivan, che è un blogger così che si occupa di cinema. Insieme a me c'era Valerio Picca che, come sapete, è il personaggio, il mio compare, insomma, il cristone, come si definisce lui, che con me condivide questo privilegio di farvi le dirette. Ciao Lorenzo, ciao a te, spero che tu stia bene anche in assenza della radio che, come dire, costituì un po' la tua passione, così spero che ritorni presto in radio, naturalmente, a parlare di cinema. E niente, allora l'idea è quella che questa diretta, una cosa abbastanza, che fa abbastanza paura, è andata naturalmente sul sito di FinTV, è andata sul sito del Politeama, del Beltrade ad esempio, del cinema Beltrade di Milano, ma anche in circa un'ottantina di siti dei cinema di tutta Italia, quindi, che ne so, io dal Trentino a Palermo, dove c'è una bellissima sala cinematografica de sé, che ha ospitato questa cosa. E guardando i dati di visualizzazioni fanno davvero abbastanza paura, si raggiungono proprio le migliaia, migliaia di visualizzazioni. Ora, l'idea è, c'è un po' di responsabilità a non raccontare qualcosa che non sia banale in questi incontri. Allora, io ho pensato questa settimana, così, di parlarvi di un paio di film. Uno è sicuramente un film, come dire, diverso rispetto a quelli di cui vi parlo sempre, cioè un film horror, un film di genere, un film del 2016, in realtà poi uscito soltanto all'inizio del 17, come dire, nelle sale cinematografiche, e che ha avuto poi una storia un po' particolare, perché in effetti come horror è probabilmente molto, molto, come dire, gioca su territori che normalmente il genere non frequenta. È un horror consapevole. Ce ne sono stati effettivamente di horror, come dire, molto particolari, mi viene in mente It Follows qualche tempo fa. Però questo film è diverso, perché da una parte rispetto a tantissimo gli stilemi dell'horror e dall'altra, probabilmente anche per le prove attore, sapete, in genere, naturalmente con le dovute eccezioni, non sono grandissimi attori, soprattutto quelli che popolano gli horror contemporanei. Magari gli attori, quelli più in vista, così quelli anche più affermati, fanno fatica a chiudersi nel genere, in qualche maniera poi temono di essere poi identificati con un dato personaggio, in qualche maniera, insomma, non sono contenti. Ecco, invece, vedere due attori come Cox, con Brian Cox e soprattutto come Emile Hirsch, lavorare in questo film, il cui titolo è Autopsy, il titolo originale The Autopsy of Jane Doe, effettivamente è davvero notevole. Che cosa succede? Succede che, prima di tutto, ti chiedi perché Jane Doe, invece che non viene poi citata nella versione, nel titolo in italiano, che rimane comunque in inglese, e l'idea è che Jane Doe, in inglese, è la femmina del cervo, ma non c'entra niente questo, è il modo in cui si, nelle situazioni in cui non si conosce il nome della persona di cui si parla, gli si dà questo nome provvisorio, no? È John Doe, è un nome maschile. Jane è la, è la, come dire, la donna, la donna di cui non si conosce il nome. Il film, naturalmente, come dire, te lo, in qualche maniera, essendo anche molto ben scritto, è abbastanza intuitivo. Per chi magari conosce un po' le dinamiche dell'horror, non è difficile arrivare ben prima che questa cosa diventi proprio così palese alla soluzione, che naturalmente ci mancherebbe, non vi anticipo qui. Però la cosa che mi ha colpito è quanto in realtà tu rimanga agganciato alla... Ah, ti è piaciuto, Lorenzo? Mi fa piacere! Con Lorenzo, appunto, in realtà, a distanza poi si trovano delle linee di contatto sempre molto, molto interessanti. Beh, allora, ti cattura il film, anche perché è molto claustrofobico, è quasi un Kamerspiel film, è tutto girato praticamente in un seminterrato, pochissime scene all'esterno, e questa atmosfera claustrofobica finisce davvero per coinvolgerti proprio anche come spettatore. Tra l'altro è molto bello anche il regime di visione non visione nel film. Nei momenti più drammatici, vedete, il nemico è, questa regola classica dell'horror, sempre dietro al sesto fuoricampo. Sapete la teoria dei sei fuoricampo, tutto ciò che c'è sopra l'immagine sotto, a sinistra e a destra, sono i quattro fuoricampo. E poi c'è tutto ciò che c'è dietro la macchina da presa, oppure tutto ciò che c'è dietro una parete, dietro un diaframma, che noi non vediamo perché, appunto, c'è questa parete che impedisce quando la porta chiusa è il sesto fuoricampo. La porta che si apre svela il sesto fuoricampo. Ecco, è notevolissimo quello l'utilizzo del sesto fuoricampo, sia quando questo è una porta, sia quando è una qualcosa di un pochettino più strano per noi, perlomeno, dalle nostre parti, cioè una porta che si apre verso l'esterno e che dovrebbe liberare queste persone che sono nei semi interrati, facendo loro rivedere le stelle. E niente, effettivamente è davvero notevolissimo il modo in cui questo regista riesce a tenerci incollati proprio assolutamente allo schermo. Amy Lerch è davvero notevolissimo, notevolissimo nel tenere la parte. Non so, una delle cose che mi hanno anche colpito tanto è questo regime per cui in certe fasi tu vedi tutto, o meglio, ti è fatto credere di vedere tutto, aiutato anche dalle luci, perché l'autorsia sapete che si svolge con queste luci che si usano anche per, che ne so, per fare le operazioni chirurgiche, quindi il chirurgo deve avere il massimo della visibilità possibile sul corpo che sta operando. E lì c'è, c'è questa volontà di mostrare, di far vedere tutto, ma al tempo stesso queste luci poi nei momenti utopici, come vedrete, saltano. C'è un blackout completo, un po' come se si dicesse allo spettatore, il cinema è la magia di ciò che tu, il sogno di ciò che tu vedi, cioè la materializzazione di questo tuo sogno. E al tempo stesso poi con, è resa possibile dalla luce, perché sapete che noi non vediamo gli oggetti, noi vediamo, come dire, la luce che si frangi su questi oggetti che poi colpisce la nostra retina. E ovviamente non è che l'oggetto sparisce quando va via la luce, ma noi non lo vediamo più, perché la nostra retina non decodifica più nulla. Ecco, è molto interessante questo discorso proprio fatto sulla regime visibilità-invisibilità, ciò che riesco a vedere e ciò che mi è consentito vedere. Per esempio, guardate poi il cosiddetto terzium non dato, cioè tu una cosa o la vedi o non la vedi. No, il cinema, questo tipo di cinema, l'horror buono, introduce il terzium non dato e lo presenta, è la nebbia. Nella nebbia tu, non è che vedi perfettamente, ma non è nemmeno che tu non veda, tu vedi in maniera imperfetta e questo non fa che incrementare, se volete, l'incubo. Un incubo che, per esempio, nella nebbia naturalmente ti fa intravedere il nemico principale, ti fa intravedere la minaccia peggiore. Vedetevi assolutamente autopsi, ne vale la pena. Un film, diciamo il film principale del quale che è di André Overdahl, del 2016. Un occhio di riguardo per la protagonista che effettivamente anche se praticamente in tutto il film, come vedete, muoverà soltanto un muscolo di fatto, ed è completamente nuda dall'inizio alla fine del film, si chiama Olven Kelly, Olivia Kelly, la protagonista, ed è di una bellezza sconvolgente. Una ragazza davvero bellissima, di origine irlandese, una bellezza incredibile. E anche qui il fascino, secondo me, viene proprio dal fatto che lei è morta. Cioè, lei è morta, ma al tempo stesso non è morta. L'uomo dell'identità sconosciuta, è vero, può darsi, può darsi, assolutamente sì. Niente, la cosa che appunto l'altro film, invece, Recupero, di cui vi parlavo all'inizio, è un film che tutti conoscerete, ma che vi invito a rivedere, almeno per me rivederlo in questi giorni è stato epocale, è stato davvero disvelatorio. C'è stato veramente un rito di agnizione, cioè io ho riconosciuto questo film, ed è un film classico della commedia all'italiana. Sto parlando di Brancaleone. Il film di Monicelli del 1966 potrebbe sembrare, come dire, un film troppo visto, sapete, uno dei film più noti della commedia all'italiana. Ma attenzione, la commedia all'italiana non ci sarebbe stata se non ci fosse stato il neorealismo, e senza il neorealismo praticamente non ci sarebbe il cinema che abbiamo oggi, non soltanto in Italia, anzi direi più all'estero che in Italia. Allora, commedia all'italiana, Mario Monicelli alla regia, Agia e Scarpelli insieme a Monicelli alla scrittura, un film davvero notevolissimo. Se come tanti amici con le quali ne ho parlato anche in questa settimana, l'avete visto che eravate piccoli, rivedetevelo. Prima di tutto perché è stato restaurato da Rotunno, Giuseppe Rotunno, notissimo e bravissimo direttore della fotografia, a 40 anni dalla sua uscita, quindi nel 2006, già quasi un 15 anni fa. E poi perché è davvero incredibile rivederlo magari con un occhio un po' differente, un po' più smagato? Non so, anche i personaggi, naturalmente questo Vittorio Gasman così, anche come dire, che in qualche maniera sembra quasi negare, sembra quasi contraddire il personaggio che di solito interpretava. Qualcuno dice in realtà l'armata Brancaleone prende tantissimo dai soliti gnoti. Sì, è vero, però secondo me c'è uno sviluppo differente. Pensate ad esempio all'utilizzo della lingua. È datevole anche ricordare come Mario Monicelli litigasse con Cecchi Gori, produttore del film, perché Cecchi Gori diceva ma chi capirà questi dialoghi? Sono dialoghi incomprensibili, è una lingua che non esiste, è una lingua che ti sei inventato tu, vi siete inventati voi sceneggiatori, ma noi sappiamo che Monicelli da questo punto di vista era un grande amante, un grande estimatore del cinema muto e quindi diceva meno si capirà la lingua, meno si capiranno i dialoghi e più la gente si lascerà attrarre dalla situazione, dalle scene. Tra l'altro è un'altra delle cose che colpiscono, quando si guarda un film di Stanley Kubrick come Barry Lyndon si dice che è tutto quanto girato in luoghi reali, non sono stati costruiti dei set, è perché qua in realtà grandissima parte delle scene, non soltanto quelle in campo aperto, non soltanto quelle in esterni sono state girate in luoghi realmente esistenti, ma anche tanti interni, tante cripte o anche edifici medievali così, sono assolutamente tutti quanti reali, reali, anche se per esempio ecco una grandissima fantasia nella creazione di queste scene va proprio ai costumi anche. I protagonisti, naturalmente non bisogna ricordare solo Vittorio Gassman, ma per esempio Gian Maria Volontè, Teofilatto dei Leonzi, il suo antagonista. Il ruolo dell'antagonista effettivamente è quello che l'ha portato a girare il film anche come antagonista nell'Armata Branca Leone, perché Gian Maria Volontè era al tempo molto noto come antagonista nei film western di Sergio Leone. Ecco quindi che il produttore, Cecchi Gori, impone al suo, come dire, regista, Monicelli, di prendere lui come personaggio principale, prendere lui come antagonista assolutamente corretto. Attenzione perché invece il personaggio che avrebbe voluto Monicelli era al contrario un personaggio completamente diverso. Perché, come dire, in questa fase allora si c'è che si cerca di lavorare sulla, che ne so, per esempio, su quanto l'attore riesce ad aderire al ruolo. Ma io penso che le scene, per esempio, di Piero Gherardi o le luci, la fotografia di Carlo di Palma dicano tanto in questo senso. All'inizio non ci sembra possibile che un attore che ha interpretato i ruoli che abbiamo visto nei film di Leone possa fare una cosa del genere. Ma in realtà poi ci sta tantissimo, proprio perché alla fine riesce in qualche maniera a giocare tanto anche sull'ironia, sull'autoironia. La stessa cosa non era riuscita tantissimo alla nostra Catherine Spacca, ad esempio, che a quanto racconta, al contrario, era completamente presa in giro perché arrivava da poco anche che in Italia sapeva, come dire, non sapeva neanche tanto bene l'italiano. Ci viene in mente a questo proposito il personaggio di Bela Lugosi, che trent'anni prima, venendo dall'Ungheria in realtà, imparava il suono delle sue battute nei film, appunto, in Dracula. E qui la Catherine Spacca deve addirittura fare il salto dal francese all'italiano e dall'italiano a questa strana lingua volgare che i registi e gli sceneggiatori inventano per questo film. Allora, diciamo che, secondo me, da questo punto di vista, il film di Monicelli è assolutamente da recuperare, da rivedere con una consapevolezza diversa. Mi ha colpito molto, per esempio, in questa ulteriore visione, il personaggio interpretato da Enrico Maria Salerno, Zenone, che lì per lì sembrava veramente una specie di Cristo, no? E in realtà, se uno va a vedere, il personaggio è ripreso assolutamente da Pietro Leremita. Pietro Leremita, che era colui che nel 1096 organizza la prima crociata, prima ancora che la, come dire, la crociata quella ufficiale, quella decisa dai re e dai vescovi, quella dei pezzenti, che, come sappiamo, ha avuto sicuramente una storia completamente differente rispetto a quella che potevamo immaginare. L'altra cosa che volevo aggiungere è che moltissimi dei nomi che ci sono nel film sono assolutamente inventati, ma sono invece assolutamente veri nella, come dire, rimangono, sono veri per quanto riguarda la loro caratterizzazione, nel senso che davvero è qualcosa di incredibilmente fantasioso. Il personaggio, per esempio, di Abba Kuk, l'ebreo, il notaio ebreo, ti fa veramente pensare al valore del documento, ti fa pensare a quanto, in realtà, appunto, Pietro Leremita, poi, che a un certo punto vorrà, come si dice, battezzare l'ebreo, perché è chiaramente uno dei partecipanti a questa crociata, era stato sicuramente, come dire, era caduto dal ponte a causa della presenza dell'ebreo, che è un infedele, ma in realtà, se uno va a vedere la storia, questi pezzenti, come si chiamavano, che attraversavano l'Europa, in realtà, prima ancora che cominciare la guerra contro i musulmani, contro coloro che occupavano in maniera non lecita, secondo loro, il santo sepolcro, si, come dire, combattevano contro gli ebrei, oltre che i musulmani che incontravano. Volevo, diciamo, da questo punto di vista, oltre che naturalmente dirvi che questo film, per esempio, l'Armata Brancolone, lo trovate naturalmente su RaiPlay, gratuito, non vale la pena, e si vede davvero benissimo, proprio la coppia restaurata, è qualcosa di incredibilmente buono. Volevo dare proprio una piccola, come dire, un piccolo accenno a un terzo film, in realtà il tempo qua è volato, ed è, diciamo, anche in occasione, così, della giornata contro la violenza sulle donne che si è tenuto proprio la scorsa settimana. Il film è Avigilante, di una regista donna, che l'ha prima scritto e poi diretto, che si chiama Sarah Duggar Nixon, anche qui con un'attrice che si chiama Olivia Wilde, decisamente interessante. Il film non è tutto quanto allo stesso livello, ha certi momenti assolutamente pieni di avanguardia, cioè un utilizzo della macchina da presa quasi spregiudicato, sembra davvero che si voglia organizzare una sorta di sinfonia visiva. Non è un caso che il film abbia vinto anche un premio a un festival che è normalmente un festival della musica ad Austin, in Texas, che si chiama Sud per Sud-Est. La cosa incredibile è che questa sinfonia visiva è anche efficace per un pubblico che magari non andrebbe mai a vedersi le opere di Bill Viola. Guardate come, per dare un'idea di freddezza, per dare un'idea di solitudine di questa protagonista, che subisce, ha subito, lo scopriamo a mano a mano che il film va avanti, violenze inenarrabili da parte del partner, c'è una specie di utilizzo proprio della fotografia molto molto desaturato. Si toglie tantissimo proprio di contrasto alla fotografia, si toglie tantissima vivacità proprio al colore e questo è in maniera, come dire, tu praticamente è talmente costante nel film che tu te ne accorgi soltanto quando lo, soltanto praticamente se vuoi accorgertene, ma di fatto quello che ti comunica è un senso di non empatia, quasi come se la storia che ti venisse raccontata, tu la vedessi sempre con davanti una sorta di diaframma che ti impedisce di partecipare. Non lo so se impedisce a me di partecipare in quanto male, in quanto maschio e in realtà poi, però secondo me è abbastanza invece comune, nel senso che io penso che sia davvero qualcosa di estremamente voluto da parte della regista. L'altra cosa fondamentale del film, secondo me, di interpretazione, anche qui è un'interpretazione di una recitazione assolutamente non naturalistica, sembra quasi davvero di sentire, di avere davanti qualcosa come dire, quasi di teatrale e però è strano il regime, perché poi non è tutto così, è molto differente, molto disomogeneo. Guardate ad esempio, prendete ad esempio, se vi va, gli ultimi 30 minuti del film, sembra proprio un altro film, completamente diverso. È quasi come se la violenza che c'è stata per tutto il resto del, per tutta l'altra ora, diciamo, di film, sia stata repressa e in qualche maniera si sfoghi nell'ultima mezz'ora. Sono tre film quindi quelli che ho consigliato per questa settimana, avete un compito abbastanza intenso. Grazie Barbara, che mi dici che guarderai Autosy, sono contento, ma guardati anche Avigilante, così si chiama l'ultimo film di cui vi ho parlato. L'attrice, la regista si chiama Sarah Dagar Nixon e tutti questi film li trovate assolutamente online in maniera assolutamente legale. Sarah Dagar Nixon con Avigilante, Autopsy, The Autopsy of Jane Doe e naturalmente l'Armata Brancaleone del grandissimo Mario Monicelli. Grazie e naturalmente buona settimana!